Eccoci qua di nuovo in studio, saluto Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle, bentornata. Ben trovata. Matilde Siracusa. Sì, perché c'è la questione, onorevole Floridia, che non sta mai lì. Perché lui vive in Roma. È un governatore in smart working e questo i cittadini abruzzessi lo hanno notato e ce lo stanno dicendo. Non avere il governatore in Abruzzo, che sta in Abruzzo, che è consapevole delle criticità dell'Abruzzo, è un problema per i cittadini. Un cittadino aspetta 500 giorni per poter effettuare una visita in sanità. Il ministro Valditara è andato a raccogliere i suoi insuccessi in Abruzzo perché sono così sicuri di vincere quelli del centrodestra che hanno mobilitato un governo che si è fiondato tutto completamente in Abruzzo nell'ultima settimana. È andato persino il ministro dell'istruzione nelle scuole a fare campagne. elettorale e per raccogliere che cosa? I suoi insuccessi, pensi un po', in maniera eclatante, avevano parlato di questo liceo made in Italy e in tutto l'Abruzzo forse riusciranno a istituire una sola classe. Quindi è un insieme di insuccessi ma con questa paura forse di non vincere stanno andando tutti in gruppo. Le chiedo, senatrice Floridia, quello che ho capito io è che lì eravamo nel 2019, quindi stiamo parlando di cinque anni fa. Cinque anni fa il neoeletto presidente di regione dice adesso non si scherza più, ora si fa la Roma Pescara, ci smettono i soldi e si va avanti. Sono passati cinque anni, adesso ci dicono ora ci sono i soldi e si andrà avanti. Il PNRR viene spostato di un po', ma nel frattempo arriva un miliardo fresco fresco qualche giorno fa. I soldi per la Roma Pescara c'erano, li avevamo messi noi con il PNRR, poi li hanno tolti e adesso, guarda caso, dopo un anno e più di inerzia, appaiono questi soldi, viene trovato questo miliardo, un po' meno di un miliardo per questa tratta e guarda caso a ridosso della campagna elettorale. Ma dobbiamo dire una cosa, queste risorse vengono decantate adesso ma saranno utilizzabili nel 2026, che premura c'era a dirlo adesso se non ai fini elettorali e questo significa prendere in giro i cittadini. Se posso diciamo sempre Roma, ma in realtà è Chieti, quindi hanno trovato i soldi fino a Chieti, per cui l'otto 1 e l'otto 2 ci vogliono altri soldi, per cui suona bene Roma Pescara ma non è Roma Pescara, quindi bisogna anche essere corretti nell'informazione ai cittadini. Io quello che mi chiedo Fabio, siccome questo è un progetto sul quale tutti dicono è importante metterci soldi, è importante farlo, abbiamo visto facendo l'esercizio di memoria che era già così con le elezioni passate, poi ognuno fa il rimpallo di responsabilità e intanto gli abruzzesi non hanno il treno, banale, banale. Perché è un governo che ha scelto di mettere 16 miliardi per il ponte. Ha del miracoloso questa Roma Pescara, perché apprendo dalla carissima Barbara Floridia, che è la prima opera che il Movimento 5 Stelle dice sì. E quindi salutiamo, salutiamo questo evento con gioia e con giubile. Bella questa ironia. Mi sembra di capire, mi sembra di capire. Ma posso dare delle informazioni e delle notizie? Abbiamo detto sì a tantissime opere, 500 milioni per l'attraversamento mobile dello stretto, per esempio. Il progetto della Roma Pescara è molto articolato, cioè non è soltanto questo lotto. Invece il progetto del ponte è semplicissimo, quindi per un progetto ponte si trovano 16 miliardi in un mese. Stavo parlando del PNRR. L'Abruzzo si trovano 700 milioni e allora è una scelta del governo abbandonare l'Abruzzo, va bene, ne prendiamo atto. Oppure la questione è quali e quante promesse voglio fare perché sono in campagna elettorale, perché ad esempio, quando arrivate voi, noi di ponte sempre dobbiamo parlare, si sa. Ogni volta che siete su quel divano dobbiamo parlare di ponte sullo stretto, è obbligatorio. Dice l'onorevole Siracusano, arrivo senatrice Flutina, la vedo. No, perché ho avuto una notizia pazzesca. Che ci sono i documenti, per esempio. No, che il lavoro è già fatto quasi per me da Berlusconi, non ho capito quale, non so se il progetto, cantieri, opere, è già stata realizzata in precedenza e dalla quale si può ripartire, non ho capito quale. Il progetto attuale che abbiamo aggiornato è un progetto a tuttora, è moderno, è aggiornato, sarà stato aggiornato da Stettoni Messina, lo vedremo a breve. Perché l'ultima volta che eravate qui aspettavamo di vederlo. Ci sono stati anni e anni di studi, penso che sia stata l'opera più studiata del mondo, il ponte sullo stretto, con firme di esperti, tecnici di fama internazionale, quindi non la mia, né di politici o di rappresentanti del Parlamento, ma di tecnici di fama internazionale. Facciamolo vedere soprattutto ai cittadini. Lo vedrete a giorni. Di Berlusconi comunque abbiamo ereditato eco-mostri che sono messi da dieci anni e che non sono serviti quando era due settimane fa che eravate qui. Eccolo qua, senatrice Floridia, guardi qua, il futuro, sei corsie stradali, tre per senso di marcia, due binari, 6.000 veicoli l'ora, 200 treni al giorno e che vuole di più? Per poi arrivare a Messina e investire praticamente più di un'ora di tempo per arrivare fino a Milazzo per prendere il traghetto e andare alle Isole Olie, perché io che abito vicino a Milazzo, il mio paese si chiama Venetico, è un piccolo paese, io ho studiato a Messina, all'università, in un quarto d'ora ero in città, adesso ci sto 45 minuti. Quindi prima sarebbe stato opportuno investire nelle infrastrutture siciliane, ovviamente, perché siamo a binario unico, le autostrade sono disastrate. E' anche vero che abbiamo... Ma per lì c'è scritto per esempio Roma a Palermo, arrivo in treno in sei ore e uno dice fantastico, vado a Palermo, dopodiché poi da Palermo se mi devo spostare in Sicilia... Sicilia, valuterei fino a Messina, perché poi da Messina a Palermo, da Messina a Catania, da Messina a Siracusa, con le autostrade e con i treni, questi calcoli non sono fattibili. Tra l'altro l'onorevole Siracusano parlava dei traghetti che quando c'è maltempo sono fermi. Gli aliscafi. Ma voi sapete che secondo studi del progetto del ponte, il ponte resterà chiuso quando ci sono forti venti, quindi i disagi comunque in parte ci saranno lo stesso. Tra l'altro, diceva Dragoni, che è... Io mi affido agli studi realizzati al Ministero delle Infrastrutture sulle tre ipotesi di ponte, come bene diceva lei, il tunnel non è fattibile, a due campate, quindi a tre piloni non era fattibile perché il pilone centrale doveva chiaramente essere collocato al centro dello stretto e non era realizzabile. L'unica via percorribile può essere questa che stavano affrontando loro, ma ancora manifestava delle criticità, tra queste criticità era l'attraversamento durante il vento e vorrei dire a Dragoni che è bellissimo, un ponte sospeso, il più lungo, tutto quello che vogliamo, ma sapete il pilone che verrà realizzato a Messina andrà a distruggere una delle aree protette e più belle in assoluto che abbiamo in Italia e l'onorevole conosce bene la zona di Gansirri? A voi verrebbe mai in mente di fare un pilone a Piazza Navona? No. Perché lo devono fare a Gansirri? Dove praticamente i cittadini anche solo per cambiare una tegola nel tetto devono chiedere venti permessi. È un sacrificio accettabile Fabio. Il pilone a Piazza Navona per fare arrivare prima i cittadini al Senato. Rimaniamo nella depressione, rinunciamo a un'opera che darebbe uno sviluppo, uno slancio pazzesco, i nostri territori, i depressi dove c'è un rasto tasso di soccupazione, a Messina non c'è un turista, non c'è una struttura ricettiva, non c'è un turista, noi rinunciamo a una grande opera unica al mondo che darà possi lavoro, ridurrà pure l'inquinamento perché come modalità primaria di trasporto c'è l'alta velocità. Fatemi sentire Fabio Dragoni. Non lo sapremo mai le opere di contorno. Non le chiami opere di contorno, l'ambiabilità siciliana non è opera di contorno, stiamo scherzando, non si dice opera di contorno. Ma non è sempre sgridate. Negli anni passati come mai non sono state fatte mai le strade? Perché abbiamo, no, 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 abbiamo stanziato, non posso dire che abbiamo stanziato. Non è vero, i cantieri che ci sono, sono delle risorse che abbiamo stanziato col conte e due. Quindi se poi forse procediamo a terra. Io mi permetto solo di ricordare che appunto la Balzerani è un ex brigatista delle Brigate Rosse che non si è mai pentita a quel post, senatrice Floridia. Assolutamente fuori luogo, quindi mi unisco invece alla rettrice della Sapienza che ha prontamente preso le distanze. Dobbiamo stare attenti con la storia, con il racconto della storia e soprattutto chi insegna agli intellettuali nel manifestare le loro opinioni capita che veramente possono creare un danno intellettuale pazzesco.